Anticipazioni Beautiful, trama puntate, venerdì 10 settembre 2021. Ridge passa alla Spencer Publication per affrontare Bill. Gli dice di aver assistito alla dichiarazione d'amore fatta a Brooke. Lo Spencer suppone che abbia sentito anche la risposta della Logan. Lei amerà per sempre un solo e unico uomo, Ridge Forrester. Allo chalet, Liam e Hop discutono sulla necessità di riportare Kelly a Steffi. La Logan spiega che il dottore non l'abbandona mai. Brooke arriva e scopre che Steffi sta assumendo dei farmaci molto potenti. Steffi a Malibu piange e si lamenta con Finn perché non potrà più essere la madre forte e sicura di sé, tanto promessa a Kelly se continuerà a soffrire in quel modo. Lo implora di avere altre pillole, solo così potrà riprendersi. Lui risponde di no e precisa che i problemi che sta avendo con la figlia possono dipendere proprio dai farmaci. Steffi poi si apre con lui e gli parla della brutta vicenda dello scambio di culle. Una chiamata dall'ospedale li blocca. Finn deve andare via. Le promette che sarà disponibile per lei tutte le volte che vorrà. E le lascia il suo numero privato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.